I sindaci della Val Chiavenna non ci stanno alla chiusura del punto nascita. Quest'oggi alle 18 i rappresentanti delle amministrazioni della Valle del Mera hanno incontrato il prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalia per esprimere tutte le loro preoccupazioni rispetto alle prospettive non solo del centro dedicato per i nascituri ma in linea generale sul futuro del presidio sociosanitario Val Chiavennasco che a loro avviso sta inesorabilmente perdendo i pezzi. Dopo un incontro intercorso con gli assessori regionali al welfare Giulio Gallera e alla montagna Massimo Sertori nel corso del quale i primi cittadini non hanno potuto replicare alla scelta presa dal Pirellone di salvare il punto nascita di Gravedone e non quello Chiavennasco forte il primo di 333 parti l'anno contro i 108 del secondo i sindaci si affidano ora al funzionario del governo affinché possa farsi portavoce delle loro preoccupazioni. Nel frattempo sale la protesta dei cittadini, emblematico il caso di Gianni Scaramella di Gordona che ha deciso di incatenarsi di fronte all'ospedale per esprimere tutto il suo disappunto rispetto alla risoluzione. Da diverso tempo, da alcuni anni ci stiamo occupando quotidianamente dell'ospedale perché crediamo sia un presidio fondamentale. Vivere in montagna richiede di avere i servizi essenziali e questo è uno di quelli. Abbiamo approvato all'unanimità in tutti i consigli comunali, nell'assemblea di comunità montana il manifesto dei sindaci costruito anche grazie al confronto con la popolazione dove diciamo quelli che sono i servizi essenziali all'interno dell'ospedale. Ora ci troviamo con una scelta non condivisa per cui chiediamo al prefetto che è il rappresentante dello Stato di appoggiare questa nostra iniziativa che continua a nome dei cittadini per fare in modo che Chiavenna possa continuare a offrire a tutta la valle, a tutti i suoi cittadini, i servizi sanitari essenziali per dare la serenità di vivere in un territorio come il nostro. I sindaci, così come i membri del Comitato insieme per l'ospedale di Chiavenna, manifestano tutto il proprio scetticismo rispetto al funzionamento della collaborazione proposta dalla Regione tra le realtà di Gravedone e Chiavenna. Il presidio dell'Alto Lago presterebbe unità operative, quando necessario, a quello della Valle d'Almera, garantendo così la continuità delle parti del centro chiavennasco. La modalità ovviamente non spetta a noi, chiediamo che in Val Chiavenna ci sia un riferimento spedaliero che dia risposte concrete ai cittadini.